Non sarà solo la stagione teatrale del Mercadante a tenere compagnia la città di Cerignola, ospitata nel Foggiano della Roma Cinema Teatro e diretto da Simona Sala. Anche la stagione 23-24 della struttura citata correrà in parallelo. Dal 4 novembre si aprono le porte per una stagione con nomi di altissimo livello e spettacoli che emozioneranno il pubblico di tutte le età. Senza dimentichere gli appuntamenti con Arterie Teatro, il 25 novembre con Raperonzolo e il 10 marzo con la Serenetta. Per Simona Sala, direttrice della struttura, non vediamo l'ora di raccogliere il nostro pubblico. Quest'anno abbiamo cercato di accontentare prendendo spunto proprio dai feedback raccolti nella passata stagione. Vi qui la scelta di un cartellone ricco di spettacoli affiancati a grandi classici, all'insegna della comicità, dell'intrattenimento e a buona musica. Si parte il 4 novembre con la PIS ideata e interpretata da Tiziana Foschi, ex del quartetto premiata ditta e Antonio PISU dal titolo Faccia un'altra faccia che ne cura anche la regia. Poi, verso la fine del mese, Enzo De Caro, Nunziaschiano ed altri sei attori della compagnia, Luigi De Filippo, proporranno l'amaro immaginario. Tornerà anche il concerto di Capodanno il 3 gennaio e poi anche la musica con Sergio Caputo.